Il 3 novembre gli americani sono chiamati alle urne per votare il loro presidente, ma sono davvero i cittadini a scegliere il commander in chief? Partiamo innanzitutto dei requisiti che ciascun candidato deve avere per essere eleggibile. Il primo è essere nati negli Stati Uniti, il secondo avere almeno 35 anni e infine essere residente negli Stati Uniti da 14 anni. I candidati per la Casa Bianca iniziano le rispettive campagne elettorali mesi prima delle elezioni, cercando di vincere la nomination dal proprio partito. Durante i caucuses, membri del partito si incontrano e valutano il miglior candidato per il partito alle elezioni generali. In seguito, nelle primarie, i rappresentanti dei partiti votano il candidato che correrà nelle elezioni generali. Dopo questi due passaggi caucuses e primarie, ciascuno dei due partiti organizza una convention per la nomination ufficiale del candidato selezionato. La convention è il momento dove viene ufficialmente nominato il candidato alla Casa Bianca. I due sfidanti cercano poi di raccogliere il maggior consenso possibile con un'intensa campagna elettorale. Torniamo però alla domanda originaria. Sono i cittadini americani a scegliere il presidente? La risposta è no. Vediamo perché. Nell'election dei cittadini votano non per il presidente, bensì per un gruppo di persone chiamate grandi elettori. Il candidato che vince in uno Stato ottiene il voto dei grandi elettori. Il collegio elettorale è composto da 538 grandi elettori. Il candidato che ottiene 270 o più grandi elettori diventa presidente. Questo processo di votazione è previsto dalla Costituzione. Il numero di grandi elettori per Stato è dato dalla somma di senatori e deputati della House of Representatives. la California e il Texas sono gli stati con il maggior numero di grandi elettori, rispettivamente 55 e 38. New York ne esprime 29. Questo metodo di votazione ha generato dei paradossi. Vediamo uno di loro. Nel 2016, per esempio, la candidata Dame Hillary Clinton ottene quasi 3 milioni di voti in più a livello nazionale rispetto a Trump, ma ben 74 voti di grandi elettori in meno, rimediando una dolorosa sconfitta. Trump indietro nei sondaggi punta proprio su questa tattica. Vincere in più stati e ottenere più grandi elettori del rivale Joe Biden. Riuscirà a bissare il successo del 2016?